Non è la prima volta che i residenti della strada comunale Cerreto 2 in località Cannelle sopra l'abitato di Carrara Fano contattano la nostra redazione per denunciare lo stato di abbandono del manto stradale. A giugno dello scorso anno alcuni di loro ci avevano mostrato come questo tratto in estate ad ogni passaggio di veicoli si crea una grande quantità di polvere mentre in inverno soprattutto con le frequenti piogge si formano diverse buche creando così disagi per chi è in auto oppure in motorino. E sono proprio le buche tutt'oggi a preoccupare chi abita in questa zona. Da alcune settimane infatti si sono create diverse crepe profonde e anche una vera e propria voragine lunga quasi un metro e altrettanto profonda. Questa qui è la solita strada comunale già da tempo dietro che si diceva sempre di mettere a posto questa strada e non si fa vedere mai nessuno qui è l'unica strada che paghiamo le tasse ma non si vede nessuno per ripararla. Il problema è questo oggi per oggi c'è le crepe che ci dà la strada. Io non dico molto però una volta all'anno metterci un po' di ghiaia da fare una manutenzione cioè è una strada che una volta all'anno bisogna fare la manutenzione invece qui non si vede mai nessuno. Arriva l'organico i camion botubon botubon nelle buche arriva il pulmino botubon botubon nelle buche cioè tutta acqua vengono su con un po' di stabilizzato non scola l'acqua da nessuna parte dopo 15 giorni forma le buche e siamo sempre in fondo. Nel frattempo le nove famiglie che abitano in questo tratto hanno chiuso la profonda buca con una tavola in legno per poter far passare i mezzi compresi i pulmini per la scuola in sicurezza senza rimanere incastrati ma al tempo stesso chiedono interventi veloci da parte del comune di Fano prima che frani tutta la strada. Insomma tre anni che non vengono più a riparare che non fanno più niente mettono sì una palla di breccia su una buca e poi a posto invece qui non bisogna solo una palla bisogna fare i fossi bisogna pulire le fogne bisogna dare una messa a posto glielo ho anche detto io invece arriva l'ingegnere arriva è venuto su una volta l'ho visto così per caso un gran spolverone tutto sparato una gran polvere e non si è nemmeno fermato niente perché io gli avevo già segnalato che c'erano c'erano sti crepe. Da tanto tempo che se ne innamo però vengono guardano sta la vista non si vede più nessuno. La cosa è semplice visto che noi confiniamo col comune di Cartoceto se il comune di Fano non vuole occuparsi di noi non c'è nessun problema ci mettiamo noi insieme e poi andiamo col comune di Cartoceto ci spostiamo non ci vogliono ci spostiamo